Sono particolarmente soddisfatto innanzitutto perché abbiamo una componente femminile importante, paritaria e penso che questo sia un valore aggiunto anche in una visione di insieme che possono avere. E poi sono tre professionisti che vengono dal Trentino e conoscono molto bene la realtà trentina e questo ci permetterà di lavorare insieme fin da subito su questa importantissima riorganizzazione.